Gli antichi sannitici hanno lasciato una tradizione che sarebbe quella della composta del formaggio di capra. Venivano messe le forme di formaggio di capra negli orci con aceto e acqua, coibentate con alloro e rosmarino. Tutto qua. Ho fatto io una ricerca. Inciso a mano con le iniziali del dottore Frenzio, Nicola Frenzio. Ok, grazie. Molto bello.